San Cataldo profonda commozione per la morte di un giovane Alessandro Tomasella per gravi ustioni Rischio listeria controlli dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni anche nel Nisseno Triste fine per una cucciolata a Canicasse ora si cerca di individuare la persona che ha abbandonato gli animali Il pane sempre più caro anche a Caltanissetto un chilogrammo può costare fino a 4 euro Via Paladini ritorna alla normalità dopo la fuga di gas di lunedì sera Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale apriamo parlando di San Cataldo Profonda commozione per la morte di un giovane Alessandro Tomasella per gravi ustioni Dettagli nel servizio Profonda commozione a San Cataldo e non solo per la morte di Alessandro Tomasella 31 anni a causa di gravi ustioni riportate nella serata di lunedì Da una prima ricostruzione il giovane si trovava in contrada Vassallaggi Quando sarebbe stato raggiunto da una fiammata proveniente da un barbecue Van alla corsa prima verso l'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e poi al Garibaldi di Catania Tomasella è deceduto poche ore dopo nel corso della notte Ustionate ma in maniera meno grave anche altre due persone Entrambe di San Cataldo che avrebbero preso parte alla stessa grigliata Del caso si occupano i carabinieri della tenenza di San Cataldo Cordoglio e vicinanza alla famiglia di Tomasella sono stati espressi dal sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato in un post su Facebook E da un massiccio numero di amici anche sulla sua stessa pagina social Il giovane lascia una figlia, la mamma Gabriella e il papà Filippo Con il quale condivideva l'attività lavorativa Un'azienda che vende macchine e attrezzature agricole alla zona industriale di Caltanissetta Tomasella appassionato di agricoltura, cavalli e biciclette Era apprezzato e stimato non solo a San Cataldo Aveva molti amici anche a Caltanissetta Che lo ricordano così Un ragazzo pieno di vita Sempre disponibile con gli altri Dal sorriso contagioso Capace di dare una grande carica di allegria Alle persone che lo circondavano Sulla sua pagina Facebook aveva scritto Le persone che non ridono non sono persone serie Nelle ultime ore i familiari di Alessandro Tomasella Hanno presentato denuncia al commissariato di Catania Ognina chiedendo approfondimenti sulle cause del decesso E sulla corretta gestione sanitaria dell'emergenza Che ha riguardato il giovane deceduto nella notte tra lunedì e martedì E adesso cambiamo argomento Parliamo di rischio listeria Controlli dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni anche nel Nisseno Controlli in quasi tutta la Sicilia Da parte dei carabinieri del NAS Per prevenire e contrastare la diffusione di alimenti contaminati dal batterio della listeria La cui diffusione ha recentemente causato diversi casi di intossicazione L'attività degli investigatori ha riguardato anche il territorio della provincia nissena In un salumificio di Caltanissetta Del quale è stata disposta la sospensione dell'attività Oltre alle multe da diverse migliaia di euro per il titolare I militari hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie Tanto da richiedere l'intervento del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP I carabinieri quando hanno controllato lo stabilimento hanno trovato macchie di sporco Residui alimentari, tracce di sangue rappreso, residui untuosi, polvere e perfino larve di insetti In quasi tutta la superficie calpestabile della struttura Nelle celle frigorifere utilizzate per contenere gli inzaccati pronti per la commercializzazione Oltre a rilevare le medesime carenze igienico-sanitarie Sono stati trovati più di 500 kg di salumi di ogni tipo Di cui gran parte con data di scadenza superata e altri erano privi di tracciabilità La merce è stata quindi sequestrata e sono stati prelevati dei campioni Per verificare l'eventuale presenza del batterio della listeria I carabinieri del NAS hanno anche sequestrato 75 kg di carne e bovina A seguito di un altro controllo in un'azienda impegnata nel settore della lavorazione delle carni E di preparazioni gastronomiche La carne di bovino sequestrata aveva una data di scadenza superata E nonostante ciò, secondo quanto accertato dagli investigatori Era già confezionata e pronta per essere venduta In totale sono state 34 le attività controllate dai militari del NAS di Ragusa In diverse attività, quali magellerie, salumifiche di industrie e conserviere di diverse province Triste fine per una cucciolata canicassè Ora si cerca di individuare la persona che ha abbandonato gli animali Erano stati abbandonati e dentro uno scatolone sotto il sole I cuccioli trovati morti in avanzato stato di decomposizione dai volontari Che poi insieme agli animalisti hanno messo una taglia di 1000 euro Per avere informazioni accurate, precise, attendibili Che possano fare risalire i responsabili del fatto L'abbandono di animali e nello specifico di cani è reato Previsto dal codice penale, punito dalla legge E se da un lato le associazioni lamentano una poco adeguata soluzione al problema E chiedono da anni alle amministrazioni comunali E alla Polizia Municipale di pianificare controlli stringenti E maggiori misure di contrasto per la prevenzione degli abbandoni E per l'illusione dell'obbligo della microcippatura dei cani Dall'altro, proprio nei giorni scorsi, in municipio si è tenuta una riunione tecnica Tra il sindaco Gambino, l'assessore Andaloro, il dirigente Tomasella I responsabili dell'ufficio Randagismo, il comandante della Polizia Municipale Peruga I responsabili del servizio veterinario ASP e i volontari, animalisti, accreditati E le associazioni locali per fare il punto sulla situazione e trovare soluzioni Tra le azioni che saranno attuate ci sarà l'avvio di controlli a tappeto in città Con squadre miste e formate da agenti della Municipale e volontari esperti Per la vigilanza sul rispetto delle norme di polizia zoofila e anti-randagismo Torniamo a parlare di San Cataldo Durante il Consiglio Comunale sono state approvate anche due mozioni sul randagismo Sentiamo i dettagli nel servizio Approvate due mozioni sul tema del randagismo a San Cataldo Durante il Consiglio Comunale del 27 ottobre Firma dei consiglieri comunali del Partito Democratico San Cataldese Francesca Cammarata e Marco Imera Ormai da diverso tempo in varie zone del centro abitato e della periferia Circolano stabilmente cani di taglia media e grande Che mettono in serio pericolo l'incolumità pubblica delle persone Affermano, così come si legge nel comunicato stampa Inoltre il nostro ente sostiene un costo notevole per la custodia in canile La nuova legge regionale non basta, proseguono Per questo motivo abbiamo chiesto al sindaco di attivarsi tempestivamente Con ogni azione necessaria a risolvere il problema del randagismo Collaborando con le associazioni animaliste Approvando un apposito regolamento Promuovendo le dozioni dei cani e istituendo la giornata del cucciolo Ma anche errorando le sanzioni amministrative In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente Propongono inoltre uno sgrabio fiscale per il cittadino C'è una riduzione dei latari fino a 600 euro all'anno Per promuovere l'adozione e ridurre le presenze nel canile Nonché buoni da spendere nei rivenditori di prodotti e servizi per la cura degli animali Il cittadino dovrà però garantire un ambiente idoneo e le cure veterinari necessarie Per tale motivo si prevederebbe anche un controllo annuale sulla condizione del cane adottato La lotta al randagismo è una battaglia culturale E queste iniziative possono aiutare a diffondere messaggi positivi alla popolazione Sclamano Quello che viene identificato comunemente come un problema Concludono può trasformarsi in occasione per scoprire il rapporto tra l'uomo e gli animali Portando allo stesso tempo benefici economici al comune e alla famiglia Il questore Emanuele Ricifari stamattina ha deposto una corona presso il monumento Dedicate ai caduti della Polizia di Stato Nel giorno della commemorazione dei defunti Un pensiero speciale a tutti gli uomini e le donne dell'istituzione Che ogni giorno si impegnano con dovizie e professionalità Nello svolgimento dei loro compiti Si legge in una nota diffusa dalla questura su Facebook Nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno partecipato Il vice prefetto vicario Ferdinando Trombadore Il cappellano della Polizia di Stato Don Vicente Genova E' una rappresentanza dell'AMPS sezione Calogero Zucchetto di Caltanissetta Il questore ha ricordato coloro che hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del dovere Il pane è sempre più caro anche a Caltanissetta Un chilogrammo può costare fino a 4 euro Sentiamo A partire dal 31 ottobre il pane a Canicattisa era venduto 4 euro al chilogrammo L'annuncio arriva dai 26 panificatori della città a margine di un confronto Una scelta dolorosa ma quasi obbligatoria a causa del vertiginoso aumento dei prezzi dell'energia Alcuni di loro si sono visti recapitare bollette superiori a 10.000 euro Così si sono ritrovate ad un bivio Chiudere le attività o aumentare il prezzo del pane Intanto i panificatori della provincia di Agrigento Hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione regionale che si terrà a Palermo il prossimo 7 novembre Per quanto riguarda Caltanissetta abbiamo sentito il presidente della categoria panificatori Antonio Amico Caltanissetta da circa un mese una buona parte dei nostri colleghi abbiamo aumentato il pane Anche noi abbiamo portato il pane a circa 4 euro al chilo Anche se all'inizio abbiamo temporeggiato proprio per questi aumenti Per vedere se il governo attuava qualche movimento dove ci poteva venire incontro a questa attività A questo aumento di questa luce, di questo gas, di queste materie prime Ma poi alla fine comunque abbiamo capito che non è una cosa di qualche mese E quindi siamo stati costretti a questi aumenti Mi auguro che questo nuovo governo possa subito adoperarsi per venirci incontro E non solo, perché non solo ci aumentano le materie prime come ho già detto Ma anche luce e gas e speriamo che possano adeguarsi tutti i prezzi I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un 37enne gelese In esecuzione di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti di condannato in stato di libertà E contestuale ordine di esecuzione emesso dalla procura generale della Repubblica Presso la corte d'appello di Caltanissetta ufficio esecuzioni penali L'uomo è stato condannato alla pena della reclusione a 4 anni e 8 mesi Per diversi episodi di ricettazione commessi a Gela nel 2013 L'arrestato dopo gli adempimenti di rito è stato condotto dai poliziotti E la casa circondariale di Gela dove sconterà la pena E adesso parliamo di via Paladini Ritorno alla normalità dopo la fuga di gas di lunedì sera Situazione tornata alla normalità dopo l'allarme di lunedì sera Scattato a causa di una fuga di gas all'altezza dell'incrogio tra via Paladini, via Borramans e via Michele Amari L'emergenza si è protratta per diverse ore nel corso della serata della vigilia di tutti i santi Con le forze dell'ordine che avevano bloccato il traffico Per evitare che i veicoli si avvicinassero all'incrogio nei pressi del quale si era verificata la fuga di gas Causata, come è stato poi possibile stabilire, da lavori in corso nella zona Sembra infatti che un operaio dell'Enel abbia inavvertitamente tranciato un cavo della conduttura Mentre stava utilizzando un escavatore nei pressi del punto in cui la via Borramans svolta a destra in via Paladini Il traffico è stato riaperto regolarmente solo la mattina dell'1 novembre L'intervento degli stessi tecnici Enel insieme ai vigili del fuoco aveva permesso di tamponare l'emergenza Anche se non è stato semplice determinare subito il punto preciso della conduttura da cui fuoriusciva il gas Anche se poi l'intervento è stato completato con successo I vigili del fuoco hanno spruzzato grandi quantità di acqua nebulizzata La carreggiata si presentava infatti umida fino alla tarda serata di lunedì Quando l'odore del gas era stato avvertito chiaramente nella zona e anche in altri punti della città E ancora San Cataldo, tassa su rifiuti, un contributo, una tantum, le domande entro il 4 novembre Scadrà il 4 novembre 2022 il termine per la presentazione delle domande per accedere al contributo Una tantum rivolta a soggetti e nuclei familiari residenti a San Cataldo Quale agevolazione per la tassa su rifiuti per l'anno 2022? Tale contributo sarà concesso nei limiti del tributo dovuto dal richiedente Fino ad un massimo del 50% relativamente sempre a quello dovuto per il 2022 E fino a concorrenza delle risorse disponibili Verrà assegnato poi un punteggio in relazione alla situazione economica di chi presenta l'istanza Infatti ad esempio verranno assegnati 11 punti per chi possiede un ISEE ordinario o corrente inferiore a 6.000 euro E poi ancora diversi punteggi in relazione anche alla composizione del nucleo familiare Legata alla fascia di ISEE da 6.000 a 10.000 euro o da 10.000 a 17.000 euro Più alto sarà il punteggio maggiore sarà il contributo riconosciuto Si precisa infatti l'istanza potrà essere presentata tramite apposito modulo scaricabile dal sito del Comune San Cataldese Indirizzato al settore terzo politiche sociali e inviato tramite posta elettronica certificata Oppure consegnato a mano al protocollo dell'ente nella sede comunale Un provvedimento che rientra tra le misure straordinarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Rivolte alle utenze domestiche per l'anno 2022 Che era stato annunciato qualche giorno fa anche dal sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato E dall'assessore Gabriele Amico Si tratta di un altro importante intervento per chi vive in una situazione di disagio Hanno affermato una misura che consideriamo essenziale Vista la crisi energetica e i danni della pandemia La nostra amministrazione ha chiare le difficoltà che stanno vivendo molti cittadini sancataldesi Per questo in cima alle nostre priorità stiamo lavorando per creare opportunità di sostegno delle famiglie Questo è il primo di una serie di provvedimenti per provare a calmierare l'attuale crisi Hanno aggiunto nelle prossime settimane pubblicheremo anche un bando Per venire incontro ai cittadini che hanno delle difficoltà nel pagamento delle utenze energetiche e idriche La regione siciliana ha espresso la propria volontà in ordine all'esigenza di continuare ad avvalersi Fino al 31 dicembre 2022 del personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali della regione siciliana Per il funzionamento del reddito di cittadinanza e per l'attuazione del programma garanzia occupabilità lavoratori Ma non sono mai stati avviati passaggi in ordine alla contrattualizzazione del personale Si precisa notizie in tal senso sono destituite di fondamento E non rendono giustizia all'agire celere, puntuale e preciso dell'amministrazione che presiedo Lo afferma il presidente della regione siciliana Renato Schifani in una nota indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Intervenendo sulla vicenda della proroga per i contratti dei 280 ex navigator che operano nei centri per l'impiego della Sicilia Il presidente Schifani sottolinea inoltre come l'amministrazione si è mossa nel proprio ambito di competenza istituzionale Dando preciso riscontro alla richiesta in ordine alle proprie esigenze di operatività dei centri per l'impiego Limitandosi dunque, si precisa ancora, a dichiarare il proprio intento Così come peraltro richiesto espressamente dal Ministero del Lavoro nella nota a cui si è dato riscontro E adesso parliamo di un altro protocollo d'intesa che riguarda il quartiere della Provvidenza tra Comune e Rotari Nei giorni scorsi in città è stato firmato un altro protocollo d'intesa che riguarda il quartiere della Provvidenza Si tratta di un documento che sancisce una collaborazione tra il Comune Nisse e il Rotari Club di Caltanissetta per una condivisione di alcuni spazi comunali che si trovano nella piazzetta fuori dagli schemi Un laboratorio di creatività che permetterà di sviluppare iniziative di promozione dal punto di vista culturale ma anche sociale e non solo Un'esperienza che potrebbe ripetersi anche in vista di altre proposte da parte di ulteriori realtà del territorio anche in altri quartieri della città Nella stessa giornata è stato scoperto il telo che celava la targa dedicata al progetto che il Club Nisseno avvia in questo spazio all'interno del quartiere Provvidenza, la casa di Polaris ricordando dunque il nome del fondatore del Rotary International Condivideremo questo spazio con il Rotary e saremo qui presenti nel quartiere a disposizione della comunità I Rotariani metteranno a servizio di chi ne ha più bisogno La pandemia ci ha mostrato che stanno aumentando enormemente le famiglie che hanno bisogno di qualunque cosa non soltanto di un supporto economico ma anche di un supporto morale in posto che di consulenza Quindi lì i Rotariani con le loro professionalità e con il loro tempo si metteranno a disposizione di queste famiglie bisognose ricolate da parrocchie e da altri enti che ci daranno la mano Cambiamo ancora una volta argomento Parliamo della campagna dedicata anche ai giovani agli sotto dei 20 anni Percorso Azzurro 2022 per la prevenzione dei tumori maschili Il percorso Azzurro 2022 è la campagna nazionale di prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili della Lilt per la cura e la promozione di azioni di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione maschile sulle principali patologie oncologiche Di fatto l'80% degli italiani non ha mai fatto una visita urologica e per questo si può prenotare la visita gratuita ad uno specifico link dedicato La campagna Percorso Azzurro 2022 della Lilt è una campagna nazionale per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili è rivolta agli uomini oltre i 50 anni per la diagnosi precoce del cancro della prostata Gli uomini di questa età sono più restie ed ecco perché interveniamo in maniera decisa perché loro partecipano alla campagna e poter così avere una possibilità di cura con un'alta percentuale di guarigione La campagna è stesa anche ai giovani e i giovani perché vogliamo sostituirci a quella che una volta era la visita di leva dove tra i 16 e i 20 anni i ragazzi venivano sottoposti ad un'indagine che metteva in un'altissima percentuale di loro una patologia andrologica e noi ci indirizziamo in maniera specifica alla ricerca del cancro del testicolo ma anche ad altre patologie associate che questi soggetti possono avere che una volta messi in luce possono essere ben trattati La campagna è dedicata anche ai ragazzi al di sotto dei 20 anni per la prevenzione del tumore visto che meno del 5% di loro ha fatto una visita urologica i dati epidemiologici indicano che gli individui di sesso maschile si ammalano e muoiono più di cancro di quanto non accade alle donne e il cancro alla prostata presenta il 18% dei tumori diagnosticati nell'uomo la diagnosi precoce sta portando negli ultimi anni ad un grande rallentamento della malattia i controlli vanno fatti a partire dai 50 anni di età così da intercettare per tempo l'eventuale malattia o escluderne la presenza e intervenire in tempo significa avere una maggiore curabilità della malattia Esercitazione al poligono di tiro per i poliziotti della Questura Nissena I poliziotti della Questura di Caltanissetta e della specialità della Polizia di Stato della provincia Nissena sotto l'attenta guida degli istruttori di tiro hanno partecipato a giornate di addestramento professionale allenandosi al poligono di tiro L'istruttore di tiro è il punto di riferimento per chi si esercita la sua attenzione è indirizzata alla puntuale osservanza delle norme di sicurezza da parte degli agenti chiamati all'esercitazione con le armi Nel corso dell'esercitazione, così come nella quotidiana attività operativa è importante saper gestire le emozioni nel rapporto con l'arma per trovare concentrazione, stabilità e precisione Gli istruttori di tiro sono poliziotti che dopo una selezione sono avviati a frequentare un particolare corso di specializzazione di qualche mese per affinare attitudini già presenti Gli istruttori, infatti, non devono essere bravi soltanto a sparare manca di insegnare e quindi a trasmettere le nozioni e le tecniche che il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro della Polizia di Stato di Nettuno studia e affina costantemente Regione, il Presidente Renato Schifani annuncia uno dei primi atti del mio governo dovrà essere quello di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le vecchie province e con elezione diretta Uno dei primi atti del nuovo governo siciliano del Presidente Renato Schifani dovrà essere quello di trovare una soluzione legislativa che permetta di reintrodurre le vecchie province e con elezione diretta Non è un fattore esquisitamente elettorale o campanilista ma oggi mancano gli interlocutori per alcuni servizi di base è necessaria una presenza istituzionale sul territorio più efficace e più capillare Si presenterà un disegno di legge in questa direzione e su questo ci possa essere collaborazione anche con le opposizioni Intervento ottenuto durante la cerimonia di consegna delle lauree di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 della Facoltà di Medicina e Farmacia dell'Università rumena Dunarea de Ios d'Incalati a Enna Abrogarle senza creare un'alternativa fu un errore ma impedirne per ben dieci volte la nascita degli organi elettivi alternativi furono scelte perfino peggiori Le ex province tornano al centro del dibattito politico presenti nel programma del centrodestra che vuole ridare loro luce adesso sono anche al centro di una reprimenta del Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge sul rinvio delle elezioni attaccando duramente la scelta di commissariamenti eterni e antidemocratici Continua l'attività formativa della Croce Rossa italiana di Caltanissette il presidente del comitato Nicolò Piave con il delegato area attività sociali Laura Maria De Laide Rizzari e il formatore nazionale attività sociali Andrea Mucicchè hanno dato vita al corso per operatore sociale generico i cui esami si sono svolti questa settimana complessivamente oltre 40 i volontari che hanno superato con esito positivo la prova finale e adesso parliamo delle ex scuole rurali in vendita a Caltanissette pubblicato l'avviso sul sito del Comune Ex scuole rurali in vendita è stato pubblicato l'apposito avviso sul sito del Comune Nisseno relativa alle scuole rurali di proprietà comunale attraverso un'asta pubblica con il metodo dell'offerta segreta da confrontare con il prezzo di gara che si svolgerà il 6 dicembre si tratta di 9 lotti un immobile incontrato a Bulgarella uno incontrato a Misteci un fabbricato incontrato a Favarella Bassa uno incontrato a Gesso Lungo un altro immobile incontrato a Grotta Rossa Contrada San Martino, Mimiani Bosco Marcato d'Arrigo e la scuola elementare rurale di Contrada Santa Lucia che come indicato nel documento risulterebbe demolita e dunque viene inserito soltanto il prezzo del terreno mentre negli altri casi tra fabbricato e terreno i costi totali variano da poco più di 36.000 euro fino a quasi 10.000 un singolo soggetto in possesso dei requisiti necessari può presentare offerta anche per più lotti si legge se ammesso alla gara può essere aggiudicatario anche di più lotti ove le sue offerte siano le migliori per il comune si parla anche delle destinazioni d'uso ammesse cioè quelle congruenti con le caratteristiche tipologiche di ciascun manufatto in particolare si precisa le scuole rurali in gran parte oggi inutilizzate devono essere destinate ad attrezzature scolastiche o a servizi pubblici di interesse collettivo la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per il 5 dicembre 2022 entro e non oltre le ore 12 le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo al protocollo del comune di Caltanissetta di via Duca degli Abruzzi in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante appena di esclusione il nominativo, il domicilio del mittente e la dicitura non aprire offerta relativa alla vendita di beni immobili di proprietà comunale mediante asta pubblica da consegnare all'ufficio patrimonio l'apertura dei plichi in forma pubblica poi avverrà il 6 dicembre alle ore 10 nella sede della direzione seconda servizi patrimoniali sempre in via Duca degli Abruzzi e adesso andiamo ad un nuovo appuntamento con il programma Pedipedi che andrà in onda questa sera subito dopo il telegiornale alle ore 21 questa sera alle ore 21 su TFN nuovo appuntamento con Pedipedi vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda amici di Pedipedi ciao a tutti ed eccoci in un nuovo appuntamento come al solito siamo organizzatissimi in questa nuova edizione abbiamo alla camera numero 1 ecco ve lo faccio pure vedere abbiamo Gianluca l'inossidabile pronto Gianlu? caffè l'hai preso? siamo carichi? ok mentre la cameretta diciamo ecco ci sono io che cercherò di fare qualche ripresa e oggi siamo in un posto io penso che sia il posto più bello di Caltanissetta guardate dove siamo siamo proprio di fronte all'abbazia di Santo Spirito fantastico è un posto magnifico quindi adesso entreremo abbiamo appuntamento con padre Alessi che ci aspetta quindi noi entriamo vedete e ci farà vedere delle cose incredibili delle cose uniche che solo pedi pedi vi farò vedere quindi vedete il nostro scopo è quello di farvi scoprire le storie i personaggi i luoghi di Caltanissetta e molte volte noi abbiamo il vizio di passare davanti magari velocemente così con la macchina diciamo sì bello bello però non sappiamo cosa c'è dentro questo ve lo faremo scoprire ve lo faremo scoprire troppo poco anzi se avete delle segnalazioni su cose particolari potete benissimo anche ci sono i nostri numeri sicuramente di sovrimpressione potete contattarci perché tranquillamente buongiorno siamo in ritardo stamattina? no in ritardo siamo già l'u e ma io devo andare in galera fra un po' cioè va in galera? no sì sì padre Alessi non mi faccia preoccupare che vuol dire va in galera? in galera vado in servizio quindi ah quindi visitare ah giusto visitare, starci starci quindi visitare gli ammalati visitare i carcerati ci sta allora la regione siciliana sosterrà le piccole e medie imprese del settore turistico che intendano partecipare alla prossima edizione della BIT la Borsa Internazionale del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio del 2023 sul sito istituzionale della regione è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse del Dipartimento del Turismo rivolto alle piccole e medie imprese con sede o unità produttiva locale nell'isola che svolgono la loro attività nei settori dei servizi di alloggio e ristorazione in quello del noleggio dei servizi di supporto alle imprese e le agenzie di viaggio bene era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al medio le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo giornata di giovedì con correnti umide che inizieranno a interessare il Mediterraneo anticipano una perturbazione attualmente tra isole britanniche e Francia ma che venerdì apporterà un deciso cambio della circolazione atmosferica sull'Italia con piogge e venti più freddi da nord intanto giovedì della variabilità al nord sulla parte tirrenica nel dettaglio di fatti possiamo notare qualche precipitazione che inizierà a interessare il medio alto vessante tirrenico in sintesi è la mappa dell'Italia una giornata con dei piovaschi dei temporali in arrivo sul medio alto vessante tirrenico via via il nord nella seconda parte del giorno perché appunto venerdì giungerà un minimo di bassa pressione sul tirreno dettagli maggiori scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Centrale Corso Umberto Servizio notturno Al Duomo via Filippo Paladini